E' partita la seconda e ultima fase delle votazioni che decreteranno il vincitore del Paladino d'Oro per il Social Award. La seconda fase della competizione vede la partecipazione dei 25 film già selezionati dalla Movie Commission più i primi 10 film classificati dalla prima fase delle votazioni che ha visto come protagonisti gli utenti del web che hanno espresso le loro preferenze attraverso i loro voti nei canali social Facebook e YouTube e tramite il sito internet www.sportfilmfestival.org Tra i 25 film selezionati dalla Movie Commission dei 35 in finale il Panamense La Fuerza del Ballon diretto da Alberto Serra e prodotto da WP Films ha ricevuto 9 nomination Il cortometraggio russo Outcast diretto da Yuris Sesoev e prodotto da Amarad Pictures ha invece ricevuto 8 nomination Stesso numero di nomination anche per l'olandese Ventoux diretto da Anton Martens è prodotto da K-Film 7 nomination sono andate invece al Keniano Imara diretto da Samuel Vanjoie è prodotto dalla Shark Film e Folklore Film al francese You'll Never Walk Alone di Stephen Godet prodotto dalla Nodal Production e all'austriaco White Maid diretto da Mattias Meyer è prodotto dalla M-Line la pellicola indipendente italiana Il rumore della vittoria diretta da Elaria Galbusera e Antonino Guzzardi il film spagnolo Lane O diretto da Manuel Terra e prodotto da Fremental Media in Spagna l'italiano Auxilium La fede continua diretto da Angelo Santovito e Guido Passi prodotto da Cop Film Rouge e la pellicola indipendente Go Podlage diretta da Shepan Schibiki si sono aggiudicati invece 6 nomination infine i 10 film entrati di diritto in nomination grazie alle votazioni sui social e sul sito ufficiale dello Sport Film Festival da parte degli utenti del web sono l'indipendente italiano Ante 20.0 diretto da Onofrio Pitarresi è prodotto dall'associazione sportiva dilettantistica Aquila Volante di Villa Abate il polacco On The Road diretto da Roman Kalouza Wieskoslavski prodotto da Roman KV l'italiano L'Eroica diretto da Marco Rimondi e Autoprodotto Extra Time diretto dall'italiano Carlo Alessandri è prodotto da IK Media lo spagnolo We Are Runners diretto da Alberto Pueglio Salvador è prodotto da produttora Aved l'italiano Linearretta diretto da Yuri Pirondi e Ines von Bomost è prodotto da Macchina il film autoprodotto russo Betashar di Sergei Aleksandruv l'italiano Firmamento Nerostellato di Loris Fiore in arte Victor Vegan prodotto dalla Victor Vegan Production il polacco Little Big Team diretto da Christian Kaminski è prodotto dalla Krakow Film Foundation e infine il polacco K2 Touch in the Sky diretto da Elisa Kubarska è prodotto da Vaida Studio in tutto le nomination per categoria sono state 7 per i lungometraggi 17 per i cortometraggi 7 per i film paralimpici 5 per quelli sul calcio 14 per i film stranieri 12 per il miglior regista 15 per la miglior sceneggiatura 9 per la miglior fotografia 9 per il miglior montaggio e 12 per il sound mixing le votazioni che decreteranno il vincitore del Paladino d'Oro per il Social Award si svolgeranno solo ed esclusivamente tramite il sito ufficiale della rassegna cinematografica all'indirizzo www.sportfilmfestival.org e termineranno il 30 novembre